Ben trovate e ben trovati da Elvira Naselli e la redazione E-Salute. Oggi parliamo di glicemia alta, borderline di agnosi diabete. Lo facciamo con il professore Andrea Giaccari, diabetologo della Fondazione Polinico Gemelli di Roma. Grazie di essere qua innanzitutto. Grazie per l'invito. Professore, glicemia alta, al di là delle analisi del sangue che poi si dovranno fare, ma dà dei segnali? Come ci si accorge di avere la glicemia alta? In realtà il grosso problema della glicemia alta è che non dà sintomi a meno che non sia particolarmente elevata. Sostanzialmente soltanto quando la glicemia supera una soglia, al di là della quale partono dei meccanismi di difesa dalla glicemia alta, cioè si comincia a perdere glucosio con le urine, le persone possono non accorgersi minimamente di avere la glicemia alta. Quindi per questo è molto importante fare screening per cercare di capire se si è a rischio di glicemia alta appunto con l'analisi della glicemia, basandosi soprattutto su dati anamnestici, cioè la storia familiare o quello che si è fatto in passato. Quando invece la glicemia supera questa soglia, che è di 170 mg decilitro, quindi già decisamente alta, il glucosio va nelle urine proprio per cercare di mantenere una glicemia un po' più bassa e ovviamente con il glucosio che va nelle urine si perde più acqua, quindi si ha poliuria, cioè si urina di più, si perdono calorie, quindi si tende a dimagrire e per cercare di compensare la perdita di acqua si beve di più. Sono tre sintomi classici del diabete scompensato che ovviamente ci segnalano che la situazione è già abbastanza avanzata. Quindi diciamo l'unico modo per capire se si è in una fase di prediabete o se la glicemia è alta sono le famose analisi del sangue? Certamente sì, quello che conta è, ripeto, capire la storia familiare delle persone e soprattutto quello che sta facendo la persona. È chiaro che se ho in famiglia persone con diabete, anche come una volta veniva detto alimentare, cioè forme di diabete non particolarmente grave, è possibile che quel gene sia passato alla persona e che quindi sia a rischio di diabete e quella persona dovrà fare una maggiore attenzione a verificare se effettivamente ci sia un rischio di sviluppare diabete e soprattutto dovrà avere una maggiore attenzione ad avere uno stile di vita che cerchi di evitare o almeno di ritardare la comparsa del diabete. Quindi cosa? Attività fisica quella sempre e poi un'alimentazione più corretta? Perché molti per esempio pensano con una glicemia già un po' borderline di eliminare del tutto i carboidrati? Ecco, ma ha senso eliminare pane? Questo è il primo errore che fanno tutte le persone che sono a rischio e che hanno già una diagnosi di diabete. In realtà chi ha prediabete o diabete deve semplicemente avere un'alimentazione sana ed è chiaro che un'alimentazione sana non include, non so, mangiare torte o fare colazione con il cornetto, con la crema, ma avere appunto un'alimentazione sana e cercare di fare attività fisica. Sostanzialmente a differenza della popolazione generale tutti dovremmo avere un'alimentazione sana e uno stile di vita corretto anche attività fisica che a rischio di diabete ha un'attivazione in più semplicemente perché questo fa sì che il diabete se deve apparire appare molto dopo. Ma i dolci per esempio lei parlava di torte e cornetti ma i dolci sono vietati in assoluto oppure no? Non sono vietati o chiaramente bisogna avere accortezza ripeto, anche nella dieta di un diabetico almeno soprattutto nelle fasi iniziali del diabete tipo 2 che è la forma più comune il dolce può essere compreso è chiaro che non posso fare colazione con dolci ma non è sano in generale fare colazione con dolci ma un piccolo dolce alla fine di un pasto che quindi ha bisogno di tempo affinché questo dolce venga trasformato in glucosio e quindi assorbito e quindi andare nel sangue ci mette più tempo e questo interferisce meno con la glicemia della persona anche se ha già il diabete quindi un piccolo dolce concesso devi cercare di farlo con adeguatezza ripeto, soprattutto in modo sano Senta professore molti studi ormai dimostrano che persino quando c'è già una diagnosi di diabete una diagnosi di diabete quindi recente modificare lo stile di vita modificare l'alimentazione così come ci siamo detti è in grado addirittura di far tornare indietro la malattia un nuovo recentissimo studio dimostra che questa non è una remissione ma insomma comunque perché la malattia poi magari arriva permette però non solo di ritardare la malattia ma di proteggere dal rischio cardiovascolare da quello renale che sono le implicazioni poi peggiori e la malattia di diabete sta esprimendo molti concetti allora il primo punto è che effettivamente con un stile di vita corretto con una neodiagnosi di diabete e uno stile di vita corretto le analisi possono tornare perfettamente indietro cioè se io riesco a fare una dieta sana attività fisica e perdere peso poi dopo sei mesi faccio le analisi la glicemia può essere normale molte persone dicono quindi sono guarito perché la glicemia è normale in realtà non è guarigione perché non è che non si sta facendo nulla guarigione è se io non faccio nulla come facevo prima ho una malattia infettiva guarisco dalla malattia infettiva la malattia passa e io faccio esattamente quello che facevo prima queste persone invece cambiano il loro stile di vita fanno attività fisica stanno a dieta e la glicemia torna normale ma è tornata normale perché loro hanno cambiato il loro stile di vita se dovessero tornare allo stile di vita precedente e quindi recuperare il peso cominciare a mangiare male la glicemia salirebbe di nuovo immediatamente quindi non è guarigione è remissione il diabete c'è ma è in terapia è in terapia soltanto non con farmaci ma soltanto con lo stile di vita nel momento in cui si va in remissione cioè non ci sono più glicemie alte sostanzialmente si annulla il rischio cardiovascolare che è relato correlato alla presenza di diabete e quindi queste persone non solo riescono a curare soltanto con lo stile di vita la glicemia ma riescono a ridurre il loro rischio cardiovascolare questo è un grosso studio fatto anni fa il Luca Head che appunto ha dimostrato l'importanza di questo intervento precoce solo con stile di vita quindi questo diciamo da un punto di vista medico sarebbe un grande successo cioè riuscire a tenere a bada una malattia soltanto mantenendo uno stile di vita sano ma quanti ci riescono? allora ci sono tanti concetti da mettere insieme allora il primo è che il diabete è una malattia progressiva sostanzialmente riusciamo a tornare indietro ma non riusciamo a guarire per sempre o andare in remissione per sempre il diabete prima o poi tornerà e a quel punto dovremo eventualmente iniziare una terapia farmacologica ma torna anche nei pazienti che lo tengono in remissione torno anche nei pazienti che sono in remissione il punto è che la glicemia e il diabete è come se fosse qualcosa che progredisce allora quanto velocemente progredisce dipende da quello che noi facciamo nel frattempo in termini di attività fisica se siamo molto bravi si progredisce ma perché appaia nuovamente la glicemia ci vogliono 10 anni se invece non sono bravo l'anno dopo tutto torna esattamente come prima quindi è molto importante cercare di farlo inizio ma soprattutto cercare di mantenerlo devo dire che la realità è che la persistenza del mantenere lo stile di vita corretto è forse la cosa più difficile nel senso alla diagnosi sono tutti entusiasti di poter curare una malattia senza farmaci però poi un po' come con le diete si tende a mollare e a quel punto bisogna cercare di fare qualcosa di diverso ma ripeto lo stile di vita è la prima terapia il primo farmaco per la terapia del diabete Senta, ho due domande abbiamo parlato di glicemia alta ma qual è la soglia oltre la quale bisogna cominciare a preoccuparsi quella un po' borderline che indica quasi un pre-diabete Sì, il pre-diabete è da glicemia pari compresa fra 100 e 125 mg di cilitro e il diagnosi di abete è da 126 mg di cilitro a salire poi c'è la curva il classico carico orale di glucosio in quel caso i valori sono al di sotto di 140 mg normale al di sopra i 200 mg di agnesi di diabete e poi c'è la glicata dove è normale fino a 5.7 mg ed è diabete da 6.5 mg in su la glicata è uno strumento fondamentale perché è una misura della glicemia media degli ultimi due mesi prima del prelievo si effettua sul sangue banale prelievo di sangue per noi è molto importante perché guardi anche molti pazienti non so il giorno prima di andare a fare analisi cercano di stare a dieta strettissima per avere la glicemia un po' più bassa la mattina del prelievo ma con la glicata noi vediamo quello che è successo nei due mesi precedenti e quindi nessun trucco ma soprattutto vediamo se al di là di quello che è successo diciamo in un periodo nella settimana precedente magari ci sono dei momenti della giornata in cui il paziente ha effettivamente la glicemia particolarmente alta perché magari è un'abitudine alimentare diversa e noi con la glicata riusciamo a cogliere questi momenti anche nel momento in cui si fa una diagnosi di diabete capita spesso di persone che hanno glicemia accettabili buone o anche normali con una diagnosi di diabete e glicate che invece non sono a target e questo è perché nell'arco della giornata succede qualcosa di diverso e quindi dobbiamo indagare il perché Senta professore un'ultima domanda molti pazienti in cura con molti ormai sono moltissimi i farmaci per il diabete di tipo 2 temono però l'insulina temono di arrivare all'insulina volevo chiederle perché e quanti poi ci arrivano davvero? Allora certamente l'insulina è uno strumento fondamentale per la terapia del diabete e fino a 15 anni fa era uno strumento che veniva molto utilizzato nella terapia del diabete di tipo 2 parliamo perché tipo 1 purtroppo è ancora indispensabile molte persone hanno giustamente paura della terapia insulinica perché significa iniziare una iniezione al giorno qualche volta bisogna arrivare a 4 iniezioni al giorno misurare la glicemia per cercare di capire quanto a quanta insulina farsi come dicevo prima il diabete è una malattia progressiva ci sono delle persone che arrivano velocemente a una forma di diabete grave a quel punto quando queste persone pur avendo tipo 2 non hanno più insulina devono fare insulina il punto è cercare di non arrivare mai a questa situazione per non arrivare mai a questa situazione bisogna cercare di tenere sotto controllo il diabete prima con lo stile di vita e poi con altri farmaci che non hanno particolari effetti collaterali che certamente non sono l'insulina e che magari hanno anche altri benefici cardiorenali prima si inizia a cercare di gestire meglio la situazione e più tardi molto probabilmente mai ci sarà bisogno di iniziare una terapia insulinica ma questo è un messaggio confortante io guardi siamo un po' fuori tempo ma ne approfitto per farle un'ultimissima domanda trucchi a tavola cioè ci sono dei trucchi che lei insegna ai suoi pazienti per evitare diciamo di innalzare troppo il livello del diabete dobbiamo sempre ragionare che quando noi mangiamo carboidrati che sono indispensabili nella dieta anche di chi ha il diabete quello che conta è sì quanti carboidrati vengono ingeriti ma soprattutto la velocità con cui il carboidrato viene trasformato in glucosio nell'intestino poi questo glucosio va nel sangue e a quel punto dobbiamo gestire questo glucosio che va nel sangue più riusciamo a rallentare questo passaggio di glucosio dall'intestino al sangue e più è più facile gestire per il paziente la glicemia mangiare lentamente per esempio oppure anticipare con delle fibre il pasto per questo il dolce si mette alla fine del pasto perché quando il dolce viene ingerito trova lo stomaco già pieno e ci monte molto più tempo a passare nel sangue di quanto invece non sia al termine di un pasto quindi cominciare con delle verdure per esempio cominciare con delle verdure gli americani non so se lo fanno per il diabete ma mangiano spesso l'insalata prima di iniziare il pasto vero e proprio in parte perché rallenta l'assorbimento del glucosio in parte anche perché rallenta la motilità intestinale quindi dà un senso di repinezza maggiore e teoricamente fa anche mangiare di meno frutta sì frutta no frutta sì vale la stessa regola con limitazione ovviamente non si può mangiare tanta frutta è chiaro che non posso mangiarmi 4 kiwi a metà giornata perché ovviamente contengono molto glucosio ma un kiwi al termine del pasto assolutamente sì grazie professor andrea giaccheri del diabetologo della fondazione policlinico gemelli di roma e grazie a voi per averci seguito grazie a voi grazie a voi grazie a voi